Un focus sul volontariato carcerario, un momento di incontro per discutere con il Vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, dell'importante ruolo di chi gratuitamente assiste i detenuti all'interno dei penitenziari, accompagnandoli nel reinserimento sociale. Un incontro tra le tante realtà impegnate, quella al centro di pastorale carceraria dell'Arcidiocesi di Napoli, organizzato insieme all'Associazione di Volontariato Libri di Volare e alla Caritas di Napoli, ad accogliere il Vescovo Battaglia Don Franco Esposito, direttore della pastorale carceraria e parroco del carcere di Poggio Reale. Abbiamo fatto degli incontri di formazione sia per i nuovi volontari sia poi formazione permanente per quelle che già sono in servizio sia al carcere di Poggio Reale che al carcere di Secondigliano. Io amo sempre dire ai volontari che noi andiamo in carcere non per i carcerati, ma a differenza degli altri, cioè il direttore, la polizia, gli educatori, i volontari e la chiesa, la presenza di chiesa nel carcere è una presenza di compagnia, quindi noi andiamo in carcere con i detenuti. Grazie a tutti.